Stare davanti a Dio è la prima forma di preghiera. Non servono tante parole, dice tutto il cuore. Lo insegna a Maria che nello stare di fronte al Signore ha espresso se stessa. Nella festa di Nostra Signora del Soccorso a San Bartolomeo della Ginestra, Monsignor Alberto Maria Careggio la indica come preghiera assoluta, fatta di pensiero e affetto e anche memoria. In questo senso si collocano il Rosario e la Talare di San Giovanni Paolo II che il Vescovo di Ventimiglia Sanremo ha portato in chiesa. Il Rosario ci richiama che non dobbiamo distaccarci nella preghiera quotidiana. Il sangue di Giovanni Paolo II vuole dire che ogni giorno anche noi abbiamo la nostra goccia di sangue da offrire al Signore nei sacrifici, nei momenti di difficoltà, nelle prove della vita. Il riferimento è alla pandemia con l'invito ad avere rispetto e fiducia nella Vergine che è come una madre che non abbandona mai i figli, come a Cana si accorge del bisogno e va in soccorso. Penso a quello che stiamo vivendo, a quello che abbiamo vissuto. Credo che lo sguardo di Maria è quello sguardo che comunque ci fa sempre ben sperare e ci dice andate da Gesù che troverete quella parola che può essere risposta alle vostre domande, ai vostri bisogni, alle vostre fatiche. I fedeli hanno dovuto rinunciare quest'anno alla maggior parte delle iniziative collaterali a causa delle disposizioni anticontagio, un modo per tornare all'essenziale della festa mariana. Soprattutto l'importante è ricordarsi che veramente sempre al centro anche di queste feste, di queste celebrazioni, c'è veramente il nostro amore, il nostro affetto per Maria. Se da una parte l'emergenza sanitaria ha fermato molte iniziative, dall'altra c'è voglia di riprendere attività e incontri, a partire dall'oratorio. Sicuramente il laboratorio del teatro, della chitarra, Tutti questi laboratori, come il catechismo, devono andare avanti in modo diverso, però devono continuare. Dobbiamo vederci se stiamo studiando, ci stiamo pensando.